In Friuli Venezia Giulia l'RT sale, resta ancora sotto 1. Se Udine e Gorizia da sabato saranno in arancione, il verdetto per Pordenone Trieste arriverà nelle prossime ore, domani vertice con il governo sui vaccini. Nell'ultima settimana nella nostra regione i contagi sono aumentati del 64%, il doppio rispetto alla media nazionale. Udine e Gorizia sono sesta e nona in Italia per aumento dei nuovi casi. Preoccupa la circolazione delle varianti, la Slovenia da lunedì rafforza i controlli ai valichi. Per oltrepassare il confine bisogna essere vaccinati o esibire un certificato recente di tampone negativo. I baristi udinesi si dicono spiazzati dal ritorno in zona arancione che significa calo degli introiti del 70%. Chiedono più controlli di polizia su quanti definiscono untori, i cittadini che non rispettano le regole. Bocciato il regolamento regionale che impone ai migranti di presentare un documento del paese d'origine nel quale s'attesti la mancanza di case o proprietà. Scacco al welfare padano, Federica, la regione non si arrende. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. I dati relativi al Friuli Venezia Giulia sono da rischio alto e da zona arancione. L'RT sale da 0.83 a 0.92. Tutti gli indicatori relativi all'evoluzione della pandemia sono in peggioramento. Ma la bozza del report della cabina di regia arrivata oggi fotografa la situazione di 15 giorni fa e non fissa l'impennata di contagi dell'ultima settimana. I tamponi positivi sul totale di quelli effettuati sono quasi raddoppiati. Vediamo. Il rischio per il Friuli Venezia Giulia sale ad alto eppure a fronte di un RT ancora sotto a 1 i numeri sono da zona arancione. Se il destino delle province di Udine e Gorizia in tal senso è già segnato dall'ordinanza firmata ieri dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, il passaggio di colore scatta alla mezzanotte di venerdì, sulla permanenza in giallo di Trieste e Pordenone il verdetto definitivo arriverà domani. La bozza del report del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità segnala una risalita di tutti gli indicatori nella nostra regione. Per quanto il monitoraggio fotografi la situazione di due settimane fa, e in questo report il ritardo si percepisce come mai prima, ci sono comunque i segnali dell'aggravamento della situazione. L'indice RT è salito da 0,83 della scorsa settimana a 0,92 dell'attuale. La percentuale dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è quasi raddoppiata, passando dal 7,6 al 13,1%. Anche i dati sui focolai registrano un peggioramento. Quegli attivi sono aumentati da 707 a 766, quelli nuovi sono passati da 246 a 369. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, il report della cabina di regia indica che la percentuale di occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive è salita dal 33 al 35%, quella in area medica dal 28 al 30. I dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, che saranno ufficializzati domani, segnalano dunque un trend in risalita, ma proprio per il fatto che sono relativi a 15 giorni fa, sembrano non immortalare l'impennata di contagi che si è registrata nell'ultima settimana e che ha spinto l'amministrazione regionale ad anticipare misure restrittive per contenere il virus. Al momento la regione non ha ricevuto comunicazioni da Roma in merito alla permanenza in giallo o all'eventuale passaggio in arancione anche delle province di Trieste e Pordenone. Domani è atteso il verdetto e sempre domani è fissato l'incontro tra le regioni e il governo per fare il punto sul nuovo piano vaccinale. Lo ha detto questo pomeriggio il Presidente Fedriga, che ha risposto anche alle critiche sulla decisione di riattivare la didattica a distanza. Quando schiudono le scuole, figuriamoci, è una cosa che ci è pesata molto. È chiaro però, se avete visto, ieri è uscito proprio la notizia che Science, non il Corriere di Fedriga, certifica che con la variante inglese è necessario fare vaccini è quello che chiediamo e purtroppo, perché nessuno è contento di farlo, chiudere gli istituti scolastici. Se qualcuno crede che il Presidente di Regione si diverta a chiudere le scuole, ha capito ben poco. Il Governatore rigetta le critiche dopo le polemiche per la scelta di chiudere le scuole, una scelta per evitare che la pressione sugli ospedali torni a salire, prosegue anche l'interlocuzione con il Governo. Domani abbiamo anche l'incontro sul piano vaccini, che reputo fondamentale in questo momento. Se la campagna vaccinale resta la priorità assoluta sul futuro dei colori, al momento, oltre alle zone arancioni di Udine e Gorizia, non ci dovrebbero essere ulteriori peggioramenti. Penso che in questo momento nessuna ragione ne guardi se in giallo, arancione o rosso cerca di mettere in campo le misure per tutelare al massimo la salute dei cittadini e al contempo ovviamente cercare di tenere un equilibrio con le esigenze economiche lavorative, che è quello che abbiamo fatto anche come Regione nell'ultima ordinanza. Posso dire che allo stato attuale l'RT è sotto 1, anche il limite inferiore. Devono valutare il CTS e l'Istituto Superiore della Sanità l'indice di rischio, che non c'è stato ancora comunicato, e lo faranno penso nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Intanto oggi è arrivato il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nell'ultima settimana in Friuli Venezia Giulia i contagi sono aumentati del 64%, quasi il doppio rispetto alla media italiana. Nelle province di Udine e Gorizia situazione critica sono sesta e nona in Italia per nuovi casi. Anche l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe convalida il quadro clinico del Friuli Venezia Giulia. La situazione critica nelle province di Udine e Gorizia. I dati di questi territori pesano a livello regionale. Nell'ultima settimana in Friuli Venezia Giulia i nuovi casi sono aumentati del 64%, il doppio rispetto alla media italiana. Tra il 24 febbraio e il 2 marzo, nella provincia di Udine la variazione dei nuovi casi è stata del 78,4%, nella provincia di Gorizia del 75,3%. Sono rispettivamente sesta e nona in Italia per incremento percentuale. A Trieste la variazione è stata del 27,1%, a Pordenone del 29,9%. A peggiorare è anche l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 846. Rimangono sopra la soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, 35%. A fronte della vertiginosa accelerazione impressa dalle varianti, sottolinea Gimbe, si continua a temporeggiare inutilmente nell'istituire zone rosse locali. E intanto la campagna vaccinale non decolla. Nella nostra regione, fa sapere la fondazione, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è del 3,06%. Il 3,4% degli ultraottantenni ha completato il ciclo vaccinale. Gimbe sottolinea come rimangano nei frigoriferi quasi 2 milioni di dosi di siero, il 30% di quelle consegnate. Nel nuovo DPCM, denuncia infine la fondazione, nessuna strategia per contenere l'epidemia, eccetto l'ennesima battuta d'arresto per la scuola. Il bollettino oggi in Friuli Venezia Giulia fa registrare 393 nuovi contagi su 5.979 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 6,57%. Sono inoltre 3.129 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 250 casi, il 7,99% di positività. I decessi registrati sono 10, i recovery nelle terapie intensive 63, quelli negli altri reparti 32. E dalla prossima settimana l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale darà il via ad una serie di sedute potenziate di vaccinazione riservate agli ultraottantenni, organizzando vari punti di vaccinazione con l'obiettivo di somministrare entro marzo circa 10.000 dosi solo nell'area udinese, lo ha annunciato il vice governatore Riccardo Riccardi, evidenziando che si partirà con gli ultraottantenni residenti nei distretti di Cividale di Tarcento, ai quali sarà riservato il palazzetto dello sport di Cividale del Friuli. Seguiranno Udine con il nuovo padiglione della Fiera, e Tolmezzo, Codroipo e Latisana nelle sedi, che saranno individuate con i sindaci. Dalla prossima settimana è previsto l'avvio delle vaccinazioni a domicilio per coloro che sono impossibilitati a recarsi nelle sedi vaccinali. Da lunedì saranno intensificati i controlli ai confini con la Slovenia. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro degli interni, che si è detto preoccupato per la presenza e la circolazione delle nuove varianti. Dall'8 marzo saranno introdotti punti di controllo ai valichi. Per oltrepassare il confine, sarà necessario essere muniti di un documento che attesti la negatività al tampone. Senza questo certificato e senza la vaccinazione, si sarà invitati alla quarantena, che potrà essere interrotta dopo cinque giorni a fronte di un test. Con esito negativo, pendolari e trasfrontalieri invece dovranno esibire, dopo il 15 marzo, un test con esito negativo non più vecchio di sette giorni. Se in zona gialla le perdite per i gestori di bar sono del 30%, rispetto al pre-covid in zona arancione sono almeno del 70% e i ristori per il 2021 non si sono ancora visti. Gli esercenti si dicono spiazzati dal ritorno in zona arancione e puntano il dito contro i cittadini che non rispettano le regole e che ritengono responsabili dell'aumento dei contagi. Chiedono insomma alle forze di polizia più controlli nei confronti di quelli che definiscono untori. La zona arancione in vigore da sabato ha spiazzato gli esercenti che si erano organizzati per far fronte alla domanda anche del fine settimana. E c'è chi chiede maggiore preavviso e chi attacca gli untori. Io le riprendo le persone, ma se lo dico io è una cosa. Se gli organi di vigilanza invece, in certi momenti tipo sabato pomeriggio nelle zone di Udine centro dove ci sono tutte queste congregazioni di giovani e non giovani su tavolini di due persone ce ne è in 18 è normale che il virus continui a girare. E se gli organi di vigilanza non intervengono anche dando multe multe a noi multe agli avventori questa cosa continuerà all'infinito. Questo controordine perché inizialmente pensavamo di rimanere in giallo tutta la settimana ci ha preso ovviamente in contropiede. Io ho dovuto, sapendo, ho saputo ieri del cambio di fascia chiamare dei fornitori e frenare una serie di ordini che erano già partiti. E cambiare continuamente fascia significa anche un impegno psicologico non facile. Io comunque ovviamente tengo duro vado avanti sperando anche che arrivino i ristori. Io diciamo mi attesto quando siamo in zona gialla sul 30% in meno in zona arancione sul 70-80% in meno e ovviamente adesso spero che queste due settimane bastino ma la mia preoccupazione è se dopo i numeri del contagio ovviamente non scendono che Pasqua ce la facciamo in arancione se non in rosso. I ristoratori si sono attrezzati per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori e alla clientela ma dicono non è servito a nulla poiché per sopravvivere in zona arancione si è costretti a puntare su take away e delivery. Solo chi dispone di un'abbinata struttura ricettiva riesce ad avere almeno un minimo di ossigeno. I ristoratori sono fra i maggiormente colpiti dalle misure anti-Covid solo le strutture alberghiere avranno una via d'uscita grazie ai pernottamenti. Noi ci stiamo adesso organizzando per l'ennesima chiusura da un anno a questa parte e potremmo mantenere il ristorante aperto solamente per gli ospiti per la cena. Purtroppo la nostra categoria in quest'anno è stata fortemente penalizzata e diciamo per l'ennesima volta ci vediamo costretti a richiudere con non poche problematiche. Cerchiamo di comunicare anche al proprio lato della prenotazione quali sono le regole massimo 4 commensari per tavolo e noi siamo molto rigidi da questo punto di vista. E appunto noi ci chiediamo il perché di questa nuova chiusura visto che ci siamo adeguati e cerchiamo appunto di osservare in modo scrupoloso queste regole. Noi qua personalmente non abbiamo avuto assembramenti proprio perché c'è il distanziamento dei tavoli e le prenotazioni una volta diciamo ultimati i tavoli non prendiamo più prenotazioni e cerchiamo appunto di essere il più liggi possibile. E dal punto di vista economico ristori come siete? Arrivano o non arrivano? Dal punto di vista economico le perdite sono grandissime anche perché questi famosi aiuti tardono ad arrivare. Siamo in parte in cassa integrazione cerchiamo di creare un turnover per dare la possibilità a tutti comunque di lavorare. Siamo alla cronaca un uomo di 63 anni italiano è stato trovato morto questa mattina all'alba nei pressi del Teatro Nuovo Giovanni Daudine nel capoluogo friulano a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo ai piedi di un muricciolo sul lato del parcheggio del teatrone. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato assieme all'automedica non ci sarebbero responsabilità a carico di terze persone nel decesso. Un autotrasportatore sloveno di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel fine settimana ha controllato mentre era alla guida di un auto articolato è stato trovato in possesso di oltre 52 kg di marijuana di ottima qualità. Gli agenti della mobile di Gorizia hanno notato il veicolo mentre percorreva la strada regionale 351 che da Cervignano porta a Gorizia. Due operatori sono saliti nella cabina di guida e hanno visto due grandi borsoni una volta aperti e apparso il contenuto delle buste in nylon trasparente termosaldato con all'interno le tipiche infiorescenze della marijuana. L'autotrasportatore sloveno è stato arrestato. La Polizia di Pordenone ha indagato due fratelli uno residente in provincia di Udine trovato in possesso di contanti prelevati con una carta post e pay rubata ad una donna di Porcia. Avevano prelevato 1200 euro da una carta post e pay sottratta a una signora di Porcia. La Polizia di Pordenone indaga due fratelli. È accaduto ieri quando nella prima mattinata è giunta alla questura della città sul noncello un alert alloggiati per la presenza in un albergo di due persone un uomo e una donna gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Così due pattuglie della squadra volante sono giunte all'albergo dove hanno rintracciato un 21enne residente in provincia di Udine intento a fare colazione che alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi. Il giovane che ha proprio carico un divieto di ritorno in provincia di Treviso per furto in abitazione e denunce per ricettazione o turizzo fraudulento di carte di credito porto gli oggetti atti ad offendere favoreggiamento insieme alla sorella una neomaggiorenne originaria di Padova gravata da denunce per furto aggravato possesso e indebito utilizzo di carte di credito e favoriggiamento personale. I due accompagnati in questura non hanno saputo spiegare la loro presenza nel capoluogo del friulo occidentale e sono stati trovati in possesso di una forbice potatrice di una carta poste pay e di 1.340 euro in contanti oltre a un attrezzo per la rimozione delle placche anti-ictaccheggio custodite nella loro automobile. La carta è poi risultata appartenere a una signora di Porcia che il giorno prima aveva subito sulla propria autovettura il furto della borsa. Dagli accertamenti il risultato che tra il 2 e il 3 marzo con la carta erano stati effettuati a Pordenone due prelievi di 600 euro ciascuno restituiti insieme alla poste pay alla legittima proprietaria. I due giovani sono stati indagati in stato di libertà per utilizzo fraudolento di carta di credito ricettazione possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno per la normativa anti-covid. Il questore della provincia di Pordenone Marco Dorisio ha disposto nei loro confronti l'allontanamento dal Friula occidentale per tre anni con foglio di via obbligatorio intimando loro di recarsi nei rispettivi luoghi di residenza. Due tentativi di assalto al banco mat della Friula Adria a credit agricol nel cuore della notte. Il primo alle 4 quando è scattato l'allarme nella filiale di Muzzana del Turniano. La banda non è riuscita a mettere a segno il colpo e forse gli stessi malviventi sono responsabili del secondo tentativo d'assalto al Bancomat della medesima banca a Bibione intorno alle 4.30 anche questo fallito. È stato bocciato il regolamento regionale che impone ai migranti di presentare un documento del paese d'origine nel quale s'attesti la mancanza di case o proprietà. Il Tribunale di Udine dà ragione a cinque cittadini con permesso di soggiorno a lungo termine. Scacco dunque al welfare padano ma il Presidente Fedriga annuncia che la regione non si arrende. I comuni non possono chiedere ai cittadini extra web documentazioni che attestino la non proprietà di alloggi nel paese di origine o nei paesi di provenienza. Il Tribunale di Udine ha dato ragione a quattro ganesi e un marocchino che avevano presentato ricorso dopo la bocciatura della domanda per avere il contributo per l'abbattimento degli affitti una misura assistenziale per combattere la povertà erogata dai comuni sulla base però di un regolamento della regione. In giudizio si era costituito anche l'ASGI l'Associazione degli Studi Giuridici dell'Immigrazione e questo estende la portata dell'ordinanza a tutto il territorio regionale. Martino Benzoni del pool legale che ha seguito la vicenda spiega che ora i cittadini extra web non dovranno più presentare nessuna documentazione aggiuntiva rispetto all'ISEE. Si tratta spiega l'avvocato udinese di cittadini con permesso a lungo termine con un contratto di lavoro integrati nella comunità che ha presentato domanda nel 2020 essere vista scartata per la mancanza della documentazione prevista dalla norma regionale con questa ordinanza può a questo punto chiedere di essere riammesso negli elenchi. Ovviamente chi non ha presentato la domanda potrà farlo alla prossima occasione. Si tratta di un'ordinanza che di fatto potrebbe rendere illegittima la richiesta di documenti da legare alla domanda per una casa ATER come già stabilito dalla Corte Costituzionale per una norma simile della regione Abruzzo. Ne prendiamo atto ne prendiamo atto con rammarico perché si crea una discriminazione verso i cittadini italiani e verso i cittadini del Friuli Venezia Giulia perché se io sono in grado di controllare un'autocertificazione rispetto a proprietà italiane di un cittadino italiano ciò non posso farlo per chi proviene magari da certi paesi quindi non chiediamo nulla di straordinario cerchiamo soltanto che certifichi che non possedga queste proprietà. Adesso stiamo valutando se ci sono i margini per ovviamente resistere a questa sentenza e comunque non demordiamo come abbiamo fatto sul lavoro e faremo sul lavoro. Pietro Fontanini sindaco di Udine si limita a prendere atto della decisione del tribunale nessun problema spiega noi abbiamo applicato la norma regionale che condivido in quanto abbiamo tanti privilegiati che poi non pagano neanche l'affitto gli stratti sono bloccati e un po' di persone non versa un centesimo di euro pur continuando ad occupare l'appartamento. È grave che il sindaco Fontanini equipari senza remore una categoria di persone tutti gli stranieri a persone privilegiate che non pagano a prescindere gli affitti a dirlo è il capogruppo di Innovare Federico Pirone commentando le dichiarazioni del primo cittadino rilasciate a Telefriuli è grave che il sindaco non rappresenti tutta la comunità udinese ma continua a fare il capopartito attuando scelte ideologiche discriminatorie verso una parte di essa ha aggiunto Pirone. E a proposito di politica dopo settimane di contestazioni e tensioni interne Nicola Zingaretti che ha parlato di stilicidio si dimette da segretario del Partito Democratico mi vergogno che nel PD ha detto da 20 giorni si parli solo di poltrone primari e quando sta esplodendo la terza ondata del Covid e sulla vicenda interviene anche la vicepresidente Dem Deborah Serracchiani il primo pensiero dice va al nostro paese in lotta contro la pandemia ora ognuno di noi deve fare il suo dovere dando il meglio senza pensare ad altro il PD si nutre di dialogo leale e il segretario Zingaretti ha il compito e l'onore di continuare a guidarlo così Deborah Serracchiani ancora cronaca versa in gravi condizioni un uomo di 50 anni che questa mattina è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a San Daniele del Friuli in sella la sua moto si è scontrato con una Tiguan tra Viale Valeriana e Viale Venezia di fronte al supermercato Cop stabilizzato dal personale sanitario è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine sul posto vigili del fuoco elicottero sanitario e polizia locale per i rilievi sono entrate con la scusa di andare in bagno ma poi hanno iniziato a rovistare in tutte le stanze della casa in cerca di oro e soldi è successo ieri pomeriggio ad Artegna due donne hanno preso di mira l'abitazione di un pensionato sono riusciti a rubare gioielli in oro e contanti per un ingente valore accortosi di essere stato raggirato l'uomo ha chiamato i carabinieri rientra a casa dopo aver fatto alcune commissioni al confine con Magnano in Riviera e scopre di essere stato preso di mira dai ladri è successo poco prima delle venti di ieri a Tarcento i malviventi hanno forzato una porta sul retro mettendo poi a soccuadro le stanze da notte sono riusciti a rubare monili e denaro per circa 4 mila euro Generali Italia lancia attiva commercio al fianco di un milione e settecentomila micro imprese con quattro milioni di lavoratori esserci per generare futuro dice l'amministratore delegato Marco Cesano Generali Italia scende in campo al fianco di un milione e settecentomila piccole imprese del commercio con più di quattro milioni di lavoratori per diventare in tre anni partner di riferimento anche nel segmento delle micro imprese lo strumento è Attiva Commercio la prima nuova soluzione del 2021 dedicata proprio al sostegno delle micro imprese del commercio presentata oggi in una conferenza stampa in streaming noi oggi partiamo da questa volontà di essere vicino alle piccole e medie imprese di essere protagonisti con loro della ripresa e di accompagnarle in tutte le loro esigenze vogliamo esserci concretamente nelle comunità dove c'è il bisogno portando tutto il meglio di generali portando il nostro modello di servizio portando le nostre capacità di innovazione portando la nostra capacità anche di avere un occhio su tutti i mercati internazionali abbiamo come dire tante soluzioni che coprono non solo l'azienda ma anche tutto il mondo che sta intorno dipendenti clienti fornitori e soprattutto possiamo accompagnare verso l'estero chi di queste aziende vuole internazionalizzarsi durante la conferenza stampa è stata presentata la ricerca multifinanziaria Ipsos 2021 con le 5 priorità per agganciare la ripresa sicuramente la semplificazione burocratica amministrativa l'attenzione al digitale l'export ma anche soprattutto il capitale umano delle aziende siano gli elementi a cui le aziende prestano attenzione moltissime aziende soprattutto quelle più grandi siano investite loro stesse indipendentemente dai mondi associativi della responsabilità di offrire prodotti e servizi alle aziende che possono aiutarli in questi processi di cambiamento il gruppo Danieli continua la marcia verso la decarbonizzazione della produzione dell'acciaio riceve un importante riconoscimento della propria leadership nel guidare anche i fornitori verso uno sviluppo sostenibile la Danieli di Butrio si ritaglia un ruolo da protagonista nella lotta al cambiamento climatico e prosegue il cammino intrapreso verso un'economia decarbonizzata e una produzione sostenibile di acciaio green non come alternativa ma come leva del vantaggio competitivo la leadership della multinazionale nel guidare i fornitori verso uno sviluppo sostenibile è stata ufficialmente riconosciuta da CDP Carbon Disclosure Project l'organizzazione globale no profit che spinge aziende e governi a ridurre le proprie emissioni di gas serra e che più in generale si occupa dell'impatto sull'ambiente fornendo una piattaforma che consente di monitorare le performance in questo ambito proprio attraverso questa iniziativa 9600 aziende che rappresentano più del 50% della capitalizzazione della borsa globale hanno divulgato nel 2020 i loro dati ambientali e sono state classificate su una scala che va da un minimo di F ad un massimo di A Danieli ha raggiunto il rating A i nostri fornitori sottolineano alla multinazionale non devono solo garantire condizioni di lavoro sicure efficienza e rispetto dei nostri standard di qualità ma anche ridurre le emissioni nell'ottica del miglioramento energetico Danieli cita il caso della consociata BS principale consumatore di elettricità del gruppo che si approvvigiona da fornitori che si autodichiarano a basso impatto ambientale e che ha scelto una mobilità a basse emissioni con la movimentazione autonoma su rotaia la decarbonizzazione della produzione d'acciaio è diventata un progetto mondiale a cui Danieli partecipa attivamente come leader lungo l'intera filiera produttiva per creare un futuro green e sostenibile una notizia prima di chiudere il governo ha confermato il rinvio delle elezioni amministrative a livello nazionale dunque anche il Friuli Venezia Giulia si adeguerà alle decisioni del premier Mario Draghi aprendo una finestra per il rinnovo dei sindaci tra i quali anche quelli di Pordenone e Trieste in autunno era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione sportiva con Sport FVG e a seguire le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda grazie ancora e buon proseguimento di serata arrivederci a cura a cura